Don Giacomo, coadiuatore dell'oratorio della parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso, quindi tutto pronto per la partenza con i centristivi, sono già iniziate anche le prescrizioni, quali sono le novità di quest'anno e il tema? Il tema di questo anno sarà Aladdin, riscopriremo questo cartone animato che ha affascinato piccoli e grandi e quindi approfondiremo le tematiche e i significati che questo cartone animato può dare ai ragazzi e può dare anche agli animatori, visto che noi ci occuperemo certo di una formazione, di prenderci cura dei bambini che ci sono affidati, ma anche un bel cammino con i ragazzi che hanno dato la loro disponibilità per fare gli animatori in questa estate. Il cartone animato è Aladdin e vogliamo dire come può essere declinato questo tema? Beh, credo che all'interno del cartone ci sono tanti spunti per riflettere sulle tematiche dell'amicizia, dei sogni, dei valori che ognuno di noi può approfondire, può dare e può anche aiutare gli altri a sviluppare e a dare. Quindi credo che ciascuno possa essere chiamato a vivere questi spunti anche nella vita concreta di ogni giorno. Vogliamo dire l'importanza dell'oratorio? Ed è stato difficile per voi trovare gli animatori in questo momento in cui sembra che i giovani abbiano altri interessi? Ma credo che certo i giovani hanno altri interessi, ma è affascinante e bello quando anche in queste settimane di preparazione i ragazzi arrivano all'interno dell'oratorio con tanto entusiasmo. E' una realtà presente con tanta freschezza, tante idee e pronti a mettersi in gioco anche per i più piccoli. Quanti sono gli animatori? Quanti saranno? Beh adesso il gruppo si sta formando nell'attività che abbiamo fatto lo scorso venerdì, erano presenti una sessantina di ragazzi che erano a disposizione per quest'estate. Certo se qualcun altro volesse aggiungersi, volentieri il cammino prosegue e ci si può aggiungere. Era stato lanciato anche proprio poco tempo fa un appello per altri volontari, magari persone anche adulte che hanno del momento libero per aiutare nella distribuzione dei passi, nella preparazione e nella sicurezza, per gestire la sicurezza di questi ragazzi. La risposta com'è stata? Ma credo che la risposta ci sia stata, certo se altre persone volessero aggiungersi, volessero rendersi disponibili per i tanti servizi e anche una disponibilità di presenza all'interno dei nostri centri estivi, è davvero un bel segno principalmente per i ragazzi perché vedono comunque gli adulti non come estranei alla loro crescita, alla loro formazione ma come compagni di cammino che li aiutano a crescere. Questo secondo me è molto importante per le nuove generazioni. Grazie.